Con un aumento dei casi pari al 17,9%, Isernia è tra le province italiane in cui, secondo l'INAIL, si è registrato negli ultimi mesi il più alto incremento percentuale di denunce di infortunio sul lavoro da Covid. Numeri piccoli, naturalmente, si è rapportati le cifre nazionali. Il totale, da fine agosto a fine ottobre, è passato da 235 a 277 casi, mentre la più popolosa provincia di Campobasso è passata da 613 a 637 casi, con un aumento del 3,9%. Da inizio pandemia, le denunce di infortunio da Covid sono state in Molise 914, pari allo 0,3% del totale nazionale, 66 nuovi casi segnalati da fine agosto, 9 i decessi finora registrati in ambito lavorativo, nessuno però quest'anno. A livello nazionale, da fine agosto a fine ottobre, si sono contate oltre 8.500 denunce in più, portando il totale dell'anno a 107.602 e a 305.395 quello da inizio pandemia. La maggior parte delle denunce degli ultimi mesi è concentrata al nord, ben il 62%, mentre il sud pesa per appena il 14,58% dei casi, isole escluse. Ecco l'identichita del lavoratore più spesso infettato. Età media 46 anni, italiano per l'88,5% dei casi e altrimenti nell'ordine romeno, peruviano e albanese. Per il 66% dei casi è donna e per il 63,2% dei casi lavora nella sanità o nell'assistenza sociale. Seguono tra gli ambiti di lavoro più a rischio, amministrazione pubblica, trasporto e magazzino, il noleggio, il commercio e infine turismo e ristorazione. Un quadro nazionale che combacia con quello molisano, dove le mansioni più colpite sono nella sanità gli infermieri, nella pubblica amministrazione gli impiegati e la segreteria e negli altri settori i corrieri e gli addetti ai call center.